Nelle città di Torre Annunziata, nei comuni limitrofi, i carabinieri della Compagnia Oplontina, nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio avvolto alla lotta dell'illegalità diffusa. 86 persone identificate, 31 veicoli controllati, perquisizioni alla ricerca di droga e controlli al codice della strada. I militari della Compagnia di Torre Annunziata sono stati supportati dai carabinieri del reggimento Campania e da quelli del nucleo cinofili di Sarno. Durante i servizi, a finire in manette per detenzione di droga a fili di spaccio, un 39enne di Bosco Reale, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. In casa rinvenuti e sequestrati 60 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. A Bosco Trecase, invece, i carabinieri l'hanno arrestato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, un 21enne del posto. L'arrestato è stato tradotto a carcere di Poggio Reale. Attore Annunziata ha denunciato per furto all'interno del centro commerciale di Via Veneto un 23enne di Torre del Greco, si era impossessato di una bottiglia di liquore. Durante le operazioni a Poggio Marino, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione anche un 42enne del posto. I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un'auto, risultato a prevento di furto il 28 aprile scorso.